Lo sai la musica che ascolta tuo figlio? Guarda che importante che tu lo sappia. In una delle ultime riunioni dell'Associazione Internazionale Esorcisti si è detto che ci sono circa 500 milioni di giovani posseduti dal demonio in vario grado e uno dei modi attraverso cui la possessione avviene uno dei modi più diffusi è proprio la musica. Per questo è molto importante che noi genitori e noi nonni stiamo molto attenti alla musica che ascoltano i nostri figli, i nostri nipoti. Domani ve ne parlo, adesso non ho più tempo, voglio farvi proprio un discorsetto un po' ampio su questa questione. Dobbiamo stare attenti a quello che ascoltano, conoscere quello che ascoltano e quali sono i messaggi che arrivano ai nostri figli attraverso la musica, attraverso i video che continuamente guardano. Ci sentiamo domani.